La sua attività, che mestiere fa? La mia attività, che mestiere ha l'incolo, io ero agricoltore, quando ero giovane. Lì dopo mi sono dato da fare, ho lavorato in una ditta di costruzione e campava la famiglia. Io, signor Presidente, sono un lavoratore. Ha proprietà intestate a suo nome? No, 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 niente, non lo tenete. Ha precedenti penali? Oh, questo è un nuovo parente, mio presidente. Il blitz che condusse la sua cattura dopo un quarto di secolo di latitanza venne chiamato Operazione Belva. È stato definito mostro e raccontato come un animale in gabbia, assetato di sangue. Salvatore Rina da Corleone, classe 1930, è stato per vent'anni e, secondo alcuni, è tuttora semplicemente il capo della mafia siciliana. Questo ex contadino, dall'aspetto pacioso, che comunica con lo sguardo, con i mezzi sorrisi o con il solo movimento delle mani, rappresenta la cassaforte di tutti i segreti più scabrosi del bel paese, o comunque di gran parte di essi. Sa perché la democrazia cristiana non volle salvare Aldo Moro dopo aver chiesto l'aiuto di Cosa Nostra e chi volle il massacro di Dallachese e della moglie. Conosce i motivi che condussero alle uccisioni dei banchieri Sindone e Calvi, le dinamiche che portarono alla eliminazione del giornalista Nino Pecorelli, in retroscena del golpe borghese. Perché vennero ordinati gli omicidi politici di Palermo negli anni Ottanta? Chi e perché uccise i giudici Chinnici, Costa, Terranova, Ciaccio Montalto, Saetta? I poliziotti Giuliano, Zucchetto, Montana, Cassarà, Mondo, Antiochia, Agostino, i carabinieri Russo, Ievolella, Basile, D'Aleo, Guazzelli, chi fece fuori il magistrato di Cassazione Scopelliti e chi e perché fece saltare in aria il treno passeggeri rapido 904. Conosce a menadito gli affari di Cosa Nostra con la Banca Vaticana, le amicizie pericolose di Giulio Andreotti e se davvero si incontrarono e si baciarono. Poi dico, ma se un Presidente, Anzeotti, Presidente italiano, che spostasse, signor Presidente, avrà una agenda, avrà un calandario, ci sono le prefetture, si può vedere il giorno dove era, il giorno non era. Ma insomma, forse chiuso, no no, forse chiuso che venissero a questo perdito, se mi dice delle realtà, o dice delle caratterie per che un Presidente, prima che si sposta, si sa dove va, dove non va, dove non è. Conosce la storia di Marcello Dell'Utri e di una folta schiera di parlamentari siciliani, vecchi e giovani, regionali e nazionali. Conosce i canali attraverso i quali ha riciclato i suoi denari e ovviamente, essendone stato parte attiva, è uno dei pochi depositari della verità sulle stragi del 92 e del 93. È l'unico che oggi può ancora testimoniare con quali modalità e con quali patti si svolse il suo arresto e se vi fu una trattativa tra lo Stato e la mafia per fare cessare l'attacco terroristico alle istituzioni. È l'unico che può svelare quali altre manine o manone intervennero nelle stragi di Capace e Via D'Amedio. Su questi due cidi, una sola volta in aula a Firenze, il padrino, a modo suo, ha detto e non ha detto, ma qualche indicazione, troppo presto, dimenticata, archiviata, su eventuali complici esterni a Cosa Nostra, la data e come. Nel processo Falcone c'è un aereo del cielo che vuole la mente che scoppia la bomba. Quest'aereo non si può trovare, di chi è, di chi è. Ne troviamo nel processo di Borsellino e lì, sul Monte Pellegrino, c'è l'hotel e nell'hotel ci sono i servizi segreti. Quando succede che scoppia la bomba, i servizi segreti scompaiono, però non vengono mai citati perché si condannano a Rina. Insomma, se quest'uomo decidesse di parlare, il paese verrebbe scosso nelle sue fondamenta, perché tutto quello che Salvatore Rina conosce è tutt'oggi attuale e ancora cronaca e risolta. Ma lui non parlerà e lo dice subito, pochi mesi dopo essere stato catturato. Siamo in corte d'assise a Reggio Calabria. Si celebra il processo ai mandanti e agli esecutori dell'omicidio Scopelliti e il 1994. Il padrino rassicura tutti i suoi partner esterni a Cosa Nostra così, con una frase secca. Non ciò mettete che sono a disposizione, perché non ci scrivete quel tipo. Da allora non è cambiato un bel nulla e da qui vogliamo cominciare il nostro viaggio attorno all'ultimo padrino, al capo della cupola mondiale, all'uomo che ha cambiato Cosa Nostra e in parte anche la storia d'Italia. Quel giorno a Reggio Calabria Rina è di buon umore, parla e scherza con i fotografi e con i giornalisti, poi traccia quella che resterà per anni ed è ancora la sua personale linea del piave. Il padrino non ce ne sono. La giornata è venuta troppo bene. Ma io non ho niente da parlare con nessuno di giornalisti e con il desiderio solo che quando i giornalisti scrivono, che scrivono, che scrivono quello che è Salvatore Rina, non che si scrive mosse, che si scrive cose dei bambini. Salvatore Rina ha fatto bambini, adora i bambini e adora tutto e tutte. Salvatore Rina è un povero saggeriato della vita. Questo deve scrivere la signora. Cioè i penditi, a me mi trageriano i penditi dalla mattina alla sera. E' uno che ha moglie e figlie. Non può commettere quello che dicono questi signori penditi. Queste cioè pagate, imboccate, gestite. Questo dovete scrivere. Da questo momento in poi, il boss ripeterà come un mantra che nessuno può dire di aver mai visto Rina, parla sempre in terza persona, fare quella cosa piuttosto che quell'altra. E per quanto paradossale possa apparire per un imputato che è sommerso da un diluvio di ergastoli, accusato di aver ordinato nefandezze di ogni genere, l'unica volta che il giovane Rina venne preso con le mani sporche di sangue risale al 1949. Una sparatoria con un morto nel centro di Corleone davanti a decine di testimoni. La cosa interessante è che mentre noi su Provenzano abbiamo i pizzini, cioè cose scritte da lui stesso, di altri capi mafia abbiamo molte dichiarazioni, qualcuno ha anche scritto un libro di memorie. Invece Rina è uno che viene conosciuto soprattutto attraverso racconti di suoi avversari e di qualche suo ex seguacia che si è risolto a parlare con la giustizia. Quindi dobbiamo stare un po' attenti. Questa figura del super sanguinario, del super capo, sanguinario sicuramente è stato sanguinario, ma del super capo, dell'autocrate, dell'Hitler della mafia, può darsi che poi non sia così preciso e che in realtà lui abbia dovuto trattare anche alla pari con qualcun altro, solo che questo lo do soltanto a livello di ipotesi perché in realtà ne sappiamo ben poco. Ho compreso attraverso lo studio dei processi e l'analisi dei fatti che molti uomini d'onore o capi famiglia o capi mandamento si sono serviti del nome di Rina per commettere i loro comodi nel fare omicidi. E sono sicuro che, evidentemente chi su Rina lo sa, ma non lo dice e non lo ha mai detto, non ne lo dirà mai, che molti omicidi sono stati commessi in suo nome e a sua insaputa. Molti omicidi, specialmente dell'area del Castellammarese, dell'area dell'Alcamese e della provincia di Trapani. Ma come, il capo della mafia, il capo assoluto che non sapeva che... Sì, prima facevano l'omicidio e poi ci dicevano, parlava male di te, diceva che ti volevano ammazzare, e allora noi lo abbiamo dovuto prevenire. Tottor Rina oggi è, ancora oggi è, di fatto, il capo dei capi. Come mi diceva mio padre, e come anche io ho spesso potuto toccare con mano diretta, rimane l'unico vero mafioso eletto dall'ultima commissione chiamata a riunirsi per leggere il suo rappresentante. L'ultimo rappresentante che è stato letto all'unanimità dalla commissione di Cosa Nostra rimane Tottor Rina, Salvatore Rina. Salvatore Rina è il più grande stragista della storia dell'organizzazione Cosa Nostra, penso della storia delle mafie. Certamente non un pazzo, certamente una persona che ha vissuto il suo essere mafioso come il perno principale della sua vita. Certamente un uomo che ha fatto sempre della spregiudicatezza dei comportamenti, a suo modo del coraggio, della decisione, della volontà e della tenacia di raggiungere i suoi obiettivi, anche criminali, il lato fondamentale del suo carattere. Un uomo che, come dimostrano anche le ultime intercettazioni ambientali, non sembra piegarsi o modificarsi nei tratti essenziali del suo carattere, neppure con l'età avanzata. Noi crediamo che sia anche oggi assolutamente lucido in quello che dice, in quello che afferma, in quello che vorrebbe fare e che gli è impedito di fare o di fare agevolmente per il suo stato di detenzione al 41 bis. 21 anni di isolamento in carcere in regime di 41 bis non l'hanno piegato. Non ha mai perduto lucidità, non ha mai chiesto di essere trasferito in ospedale, ha sempre rivendicato in suo ruolo la sua figura di capo, anche con gli psicologi del carcere. E in una perizia che si è fatta, una perizia medico-legale che si è fatta, lui al professore Maggiordomo spontaneamente, non appena lo vide, gli disse da qui in giù sono un uomo finito, ma da qui fino all'ultimo dei capelli sono io, sono sempre io, sono Salvatore Rina, quindi è un'affermazione di lealtà nel periodo che si presenta e non lo imbroglia fingendo malattie o fingendo cose. Giovanni Anania difende Salvatore Rina da molti anni, è un avvocato vecchia maniera che ha conosciuto molti mafiosi a cominciare da Gaetano Badalamenti che era difeso dal padre. A casa sua, a Cinisi, paese marinaro a pochi chilometri da Palermo, il bandito Giuliano fece capolino un paio di volte per chiedere consulenza legale al padre. Insomma, è un uomo che ha conosciuto la mafia vecchia e nuova e che tuttavia è sempre e solo rimasto un avvocato. Secondo Anania, tutto comincia quando Rina capisce che le famiglie di Palermo hanno deciso di eliminarlo, siamo sul finire degli anni 70 e il cor leonese viene invitato ad un pranzo dal boss palermitano Stefano Bontade. Rina è stato intelligente perché ha subdorato e mandò due persone al suo posto che sarebbero stati Pippo Gambino, Giuseppe Giacomo Gambino e Raffaele Ganci i quali andarono loro all'appuntamento e videro che gli alberi, il limone e il corso sotto ogni albero c'era postato un uomo armato di fucile che avrebbero dovuto sparare, che avrebbero dovuto uccidere a Rina e allora a questo punto lui si è dovuto salvaguardare, nascondendosi. Ha fatto una mattanza però poi. Sì, ma una volta che scoppia una guerra le conseguenze sono sempre quelle. Le stragi della cosiddetta seconda guerra di mafia all'inizio degli anni 80 non hanno nessun altro parallelo nella storia della mafia stessa sia siciliana che americana e direi nemmeno in quella di altre forme di criminalità organizzata italiana rimandano più su una specie di dimensione sudamericana. Centinaio di omicidi, stragi, tragedie e intrighi come ha potuto un solo uomo incarnare tutto questo? Come è stato possibile che all'interno dell'organizzazione nessuno abbia provato a fermarlo? Per Salvatore Lupo, ordinario di storia contemporanea all'Università di Palermo tra i massimi studiosi del crimine organizzato è proprio questo l'aspetto centrale della figura di Salvatore Rina che ne fa un boss sui generis. In 150 anni di storia, Cosa Nostra non aveva mai visto un uomo solo al comando. La mafia si inserisce in certi interstizi della società non pretende di dominarla. La mafia come tutte le criminalità organizzate. Invece, nella vicenda di Cosa Nostra sotto Rina e del gruppo di Corleonesi sotto Rina noi vediamo una straordinaria volontà di dominio in cui il terrore è la componente non principale ma quasi unica. Spesso la violenza di Rina è apparsa controproducente nel senso che per ognuno che è stato ammazzato alla fine la stretta repressiva si è fatta più forte è un effetto che era facile calcolare. Come mai non è stato calcolato questo effetto? Che pure la mafia ha sempre avuto, come diceva bene l'epoca fa l'intelligenza per capire questo? È assolutamente evidente che all'interno della mafia c'era moltissima gente che sulla base di un calcolo più razionale e più tradizionale anche capiva che la mafia che era sempre stata sotto struttura del potere ufficiale non poteva atteggiarsi a gruppo rivoluzionario sovversivo, terroristico, anarchico. Perché non lo era e non avrebbe funzionato così. Però esiste quello che io chiamo la vertigine del successo. Non credo che si possa dire che non ci sia stata una reazione o un tentativo di reazione. È stato più forte di tutti i tentativi di reazione. Ha giocato sempre d'anticipo, precorrendo i tempi, dimostrandosi strategicamente più furbo, più pronto, più spregiudicato rispetto a tutti quelli che in Cosa Nostra si potevano anche contrapporre a lui. Nonostante il 41 bis, le risultanze processuali sicuramente obiettive, intercettazioni ambientali di qualche anno fa dimostrano che almeno fino al 2005-2006 i capi di Cosa Nostra e Libertà, all'epoca lo stesso Provenzano, per prendere determinate decisioni strategiche dovevano ottenere l'avallo di Salvatore Riina, nonostante Salvatore Riina fosse detenuto da più di 12 o 15 anni. Nino Di Matteo, pubblico ministero di Palermo, ha incrociato Riina in diversi processi e non è molto amato dal padrino. Riina non lo sopporta proprio e nelle ultime intercettazioni ambientali incaptate in carcere, dice che gli vuole fare fare la fine del tonno, proprio come fece con Falcone. E ce la faccio prendere peggio del giudice Falcone. Di Matteo, con i suoi colleghi Teresi, Del Bene e Tartaglia, sostiene la pubblica accusa nel processo sulla presunta trattativa tra lo Stato e la mafia. Anche Di Matteo, come vedete, ha rinunciato alla sua libertà per condurre una battaglia di liberazione dalla mafia. vive super scortato e pensa che il padrino non abbia rinunciato alla sua linea di attacco allo Stato. È un uomo, da quelle intercettazioni viene fuori questo, che rimpiange quel passato stragista e auspica che l'organizzazione mafiosa alla quale lui ha dato tutto e darebbe tutto, riprenda quella strategia. Secondo Massimo Ciancimino, personaggio complesso e per alcuni ambiguo figlio del sindaco mafioso di Palermo, Rina si rivolge ad interlocutori esterni, a Cosa Nostra, ad apparati deviati dello Stato e da loro carta bianca per uccidere Di Matteo. Da carta bianca, dite, se la volete sistemare in un altro, io l'aiuto processuale ve lo do, dico che non c'entra niente con la trattativa, dico che Falcone l'ho fatto io, dico che Borsellino, anche se a volte su Borsellino dice se sono io o non io, a volte pure l'età è anche... E di fatto poi gli dice, fate questo, se lo volete fermare in altre maniere, sappiate che io ci sono sempre. Fermatelo, fatevi fare la fine del tonno, ammazzate quello che volete fare, io ci sono. E chi lo dovrebbe realizzare oggi? Chi c'è all'altezza fuori per poter fare una cosa di questo genere? che potrebbe organizzare un programma? Chi c'è? Queste piccole criminalità che fanno le istorsioni, che rompono le scatole alla cittadinanza, chi si... Chi si... Dice lei non c'è più nessuno in grado di fare una cosa eclatante come... Certo, che c'è una cosa di alto professionismo, una cosa di alto professionista, non è una cosa che può organizzare questo, chi lo... Per quello che posso capire, le intercettazioni, ad esempio, che abbiamo citato prima, dimostrano che proprio... Questi qua sono uomini di un'altra epoca. poi speriamo che a quell'epoca o una analogo non debba tornare. Avverte qualche rischio da questo punto di vista? No. Non capisco bene come si possa avvertire un rischio di questo genere quando non c'è nessun indizio. e non si è un indicatore. No, perché... Perché qualcuno che grida tutti i giorni al lupo c'è. Non le dico altro, perché poi dopo, siccome non ho la palla di cristallo, se dovesse poi invece succedere che qualcuno di questi criminali sanguinari riattizi fenomeni di questo genere, io voglio essere dalla parte della legalità e della difesa della Repubblica. Quindi, e della difesa della Repubblica, della vita dei suoi funzionari, dei suoi magistrati, eccetera. Adesso, gridare al lupo al lupo tutti i giorni mi sembra una forzatura. Da tempo a Palermo c'è una spaccatura nella società civile. Una polemica a tratti aspra che vede da una parte un gruppo di intellettuali che reputa un errore giuridico e storico il processo sulla trattativa e considera poco credibile lo sfogo rabbioso del boss, dall'altro i magistrati che conducono le indagini e che dal loro osservatorio la pensano in modo completamente differente. Questa polemica affonda le radici negli anni Ottanta quando Leonardo Sciascia scrisse un articolo sul Corriere della Sera sui professionisti dell'antimafia. Fece scalpore l'attacco al giudice Borsellino con il quale poi si chiarì ma la questione da allora è rimasta in campo ed è ancora oggi una ferita aperta. Ma a trincerarsi dietro l'annosa polemica dicono i magistrati significherebbe sottovalutare le minacce di Salvatore Rina. Noi fino alla prova del contrario che non abbiamo riteniamo che quelle esternazioni di Salvatore Rina siano spontanee. Si deve vedere se eventualmente altri eventualmente anche il suo interlocutore potesse invece essere messo lì per controllarlo e quasi eventualmente per provocarne queste reazioni. ma queste reazioni ci appaiono fino alla prova del contrario e fino a questo momento come spontanee, rabbiose e ci disegnano in fondo quello stesso Salvatore Rina che ci veniva fuori dai processi che ci veniva fuori dalle descrizioni di tanti collaboratori di giustizia che con lui o per lui hanno commesso delitti e che sembrano descriverlo nella stessa maniera anche con gli stessi accenti caratteriali che quelle intercettazioni denotano. Fino alla prova del contrario noi non crediamo che Salvatore Rina stesse recitando una parte. Contrariamente a quanto si crede non è vero che Don Totò non ha parlato. L'ha fatto e come? Spesso ha preso la parola nei processi che lo vedono imputato e l'ha fatto a viso aperto come se tra lui e i PM e i giudici non vi fosse alcuna differenza. La loro parola contro la sua. Guardate questi due scambi prima con l'allora procuratore aggiunto di Palermo Guido Loforte poi con la giudice all'atere sempre nello stesso scenario del processo per gli omicidi del presidente della regione siciliana Pier Santi Mattarella del segretario del PC siciliano Piola Torre e del segretario provinciale dell'ADC Michele Reina assassinati all'inizio degli anni 80 a Palermo. Salvatore Rina depone un mese dopo. Senta, lei quando ha rifiutato il confronto cioè ha rifiutato il sottoposto al confronto ha detto io non voglio essere sottoposto al confronto con Buscetta perché non è della mia statura è uno che ha troppi amanti ma lei che cosa ne sa? Non ho detto amanti ho detto anche tante mogli Tante mogli tante donne va bene E io posso dire E che ne sa lei? Io posso dire che l'ho letto nei giornali perché tutti i rivisti e tutti i giornali le portano poi signor Presidente come mio nonno parto di mio nonno che io quando mi riferisco di moralità passo dalla mia famiglia mio nonno è rimasto vedo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie non ha sposato e mia madre è rimasta vedo a 36 anni quindi noi viviamo nel nostro paese di cosrettezza morale Lei aveva chiesto il confronto con tutte le persone Aveva chiesto ora ho letto queste cose signor Giudice non voglio fare più il confronto con questo signore Cosa è successo nel frattempo da quando è stato interrogato la prima volta ad oggi perché lei rifiuti questo confronto Signor Giudice E decida di non discolparsi quindi Signor Giudice io sono pure anche ho diritto a non rispondere non voglio rispondere è un mio diritto non è che lei mi può imborre di rispondere No nessuno le può imporre di rispondere a Buscetti Signor Giudice c'è note che insiste perché lei non ha niente da insiste Io l'ho spiegato che non voglio fare il confronto io mi ho diritto e quindi mi ottengo dal mio diritto di non fare il confronto Come avete visto il Presidente della Corte Agnello stringe con vigore il braccio della collega un gesto istintivo paterno che ovviamente non impedirà al Presidente e alla sua Corte di condannare all'ergassolo il padrino ma l'episodio è il rivelatore del livello di tensione che c'è in aula in quel momento si tratta del confronto tra il capo dei capi e il veterano dei pentiti Tommaso Buscetta che replica così al capo mafia Io ho il diritto di parlare? Certo puoi dire tutto quello che vuole puoi chiedergli tutto quello che vuole io questo signor lo conosco lui ha deciso tutti gli omicidi che sono successi nel siciliano tutti anche quelli di altre province non solo della provincia di Palermo Lina non sono più solo io che parlo adesso è una marea di gente che parla ma che è finita Lina lei può non rispondere però se si diverte o partecipa alla corte perché si diverte o non si diverte non commento poi fissa alcuni paletti si sfila dal traffico di droga non mi sono mai interessato di droga perché se mi avessi interessato di droga mia moglie non avessi bisogno di stare in una casa da mia sua se la faccio mesi e facciate e di farse la parte di mia sua e io non conosco queste droghe queste cose che fanno tanto male ai bambini ai vecchi a tutta la domanda la prego signor Presidente io non sono mai io ho fatto solo dal mio portore il portadino lavorando o restanese io e la mia famiglia i miei genitori i miei nonni signor Presidente e infine dice che non ha fatto associazioni con nessuno che i pentiti sono gestiti e io sono come tortora Paragone francamente 25 anni di latitanza tutti trascorsi tra Palermo Trapani e Mazzara del Vallo sempre con accanto questa bella signora la Lady di Ferro di Cosa Nostra siciliana Antonietta Bagarella la maestrina di Corleone che con Don Salvatore si è sposata in clandestinità e gli ha dato quattro figli tutti concepiti durante la grande fuga Angelo Iannone è stato comandante della compagnia Carabinieri di Corleone dall'88 al 91 e ha dato la caccia a Rina e alla sua famiglia le protezioni del boss come ha fatto la stessa donna a partorire per ben quattro volte nella stessa clinica senza che nessuno se ne accorgesse è indubitabile questo è innegabile che Rina attraverso circuiti di professionisti legati in qualche modo a forme più o meno deviate di massoneria primo tra tutti Giuseppe Mandalari godesse di una serie di consapevoli o inconsapevoli appoggi istituzionali burocratici e così via era un clima diverso era una Palermo diversa era una Palermo indifferente sicuramente a questi problemi in cui potevano diciamo maturare queste forme di protezione con lui in prigione donna Ninetta è diventata il perno della famiglia amore profondo indissolubile quello tra Totò e Ninetta è lei che alleva i quattro figli li fa studiare privatamente e li riporta a Corleone la sera stessa dell'arresto lasciando questa villa diventata poi luogo tra i più misteriosi della storia di mafia i carabinieri non la perquisirono subito e una squadra di picciotti agli ordini del fratello di Ninetta Leo Luca Bagarella ebbe il tempo di ripulirla via ogni traccia e di portare via perfino la cassaforte i processi che ne sono scaturiti hanno escluso finora responsabilità da parte degli ufficiali dei carabinieri il padrino e i suoi affetti c'è una moglie c'ho quattro figli c'ho quattro gioielle di figli c'ho quattro gioielle di figli lo scrivo quattro gioielle di figli è una moglie una moglie giovanissima non fuma non fuma non beve non ha vizi di gioco di carce o di cose non l'ho mai saputo non l'ho mai sentito manco a tombola credo no di altri di altri di altri quindi le cose che le chiede sempre la famiglia insomma di avere notizie il bene supremo di Rina e la moglie i figli ha preso tanto dispiacere per le condanne dei tuoi figli tante cose lui avrebbe preferito forse che non facessero che non pigliassero questa strada beh potrebbe impedirlo ma come si può impedire a dei figli a dei ragazzi di chiesto di ora di fare qualche cosa o di non fare qualche cosa i due figli maschi di Don Salvatore non hanno scelto di fare altro rispetto al padre e le conseguenze sono state nefaste Giovanni è in carcere da diversi anni e ci resterà a lungo visto che è stato condannato in via definitiva alla pena dell'ergastolo per omicidio suo fratello Giuseppe Salvatore sta finendo di scontare da libero ma con l'obbligo di residenza a Parma una condanna ad otto anni per associazione mafiosa poi ci sono le tre donne di casa le figlie Lucia Maria Concetta e la madre Ninetta Antonietta Bagarella è una donna per certi aspetti straordinaria una donna per certi aspetti straordinaria se pensiamo che è una donna che per amore ha rinunciato ad una sua vita un amore forte ammirevole un po' da questo punto di vista i coniugirina non sono molto diversi dalla generazione di molti dei nostri genitori no? questi amori duraturi forti solidi ma come è stato possibile che una famiglia così numerosa sia rimasta nell'ombra si sia resa invisibile per un tempo così lungo? la risposta più semplice che le posso dare questa gente è rimasta a lungo latitante perché nessuno l'ha mai cercata negli anni 70 sicuramente non li cercava nessuno all'inizio degli anni 80 non li cercava nessuno il maxiprocesso fu il momento in cui cominciarono ad andare in galera quindi è interessante questo col maxiprocesso non solo furono per la prima volta processati e condannati ma anche furono per la prima volta cercati e catturati che Rina non sia stato ricercato è un falso perché a cominciare potrei andare anche indietro nel tempo ci sono state una serie di mancate occasioni e che problema che la cattura di un latitante si vede quando il latitante è ammanettato tutto quello che viene fatto prima fino a quando non c'è quel momento non dà visibilità nel 74 Rina ha sfiorato l'arresto con un intervento brillantissimo dei carabinieri a Piazzetta San Lorenzo in un appartamento destinato ai coniugirina in ritorno dal viaggio di nozze purtroppo ci fu un intervento eccessivamente tempestivo tratti in inganno i carabinieri da una luce che si era accesa nell'appartamento intervennero e vi trovarono Leo Luca Bagarella anche lui il latitante ci fu un altro mancato arresto nell'84 quando ancora una volta intervennero in un appartamento a Palermo i carabinieri non trovarono Rina ma trovarono un altro membro di Cosa Nostra importante un altro latitante importante di Cosa Nostra e poi ci sono state le indagini condotte dalla fine degli anni 80 in avanti con Giovanni Falcone da me per esempio cioè dalla compagnia carabinieri di Corleone che poi è lo stesso filone che sarà ripreso da Sergio De Caprio quindi della squadra di ultimo e che porterà a via Bernini e quindi all'arresto di Rina proprio in questo punto il 15 gennaio del 1993 Salvatore Rina venne arrestato si trovava a bordo di una Citroen grigia guidava Salvatore Biondino un suo fedelissimo vennero affiancati da due auto dei carabinieri e il boss venne portato via in pochissimi secondi nessun palermitano ha assistito a questa cattura nonostante questa zona sia trafficatissima il tema della famiglia ritorna nel confronto con il pentito Giuseppe Marchese uno dei giovani che il padrino aveva allevato uno di famiglia è l'unica volta che Salvatore Rina perde la calma prima lo corregge sul nome dei suoi figli ne ho tre figli e si chiama Lucia io la quarta si chiama Lucia la più piccola signor Presidente quindi come vede lui non sa lui parla tu parli per sentito dire perché venivano a collochi i miei cognati tu parli perché ti raccontavano qualche cosa i familiari ma io a te non ti conosco non ti ho visto non so di queste pille poi lo invita a non essere maleducato per fare il cerco non so se fossimo qua scusate l'espressione alla corte se fossimo qua io fu più una guagliata se non era se ce ne andava portato a riducato io ho chiesto io ho chiesto alla corte io ho chiesto alla corte lei non dice proprio niente nel corso di tutto il confronto Marchese darà sempre del bossia al padrino ma non gli farà sconti e lo accusa di avere soggiogato suo fratello Antonino uno dei killer più fedeli del grande campo passire il bossia si appogge perché il bossia lo sa per me frate che cosa fa per passia che cosa fa per me si taglia pure i vini e si fa ammazzare alla fine il boss recupera la calma accusare è una cosa per te troppo facile troppo cosa ti direi solo per dire io non ti ho visto mai non ti conosco tu se pensi che vai bene così continua sulla tua strada continua io non so per quale motivo tu fai tutto questo Marchese i motivi non lo so anche Rina può essere accompagnato al suo posto con Rina al comando si è verificato un altro passaggio epocale negli anni 60 e ancora negli anni 70 fino ai primi anni 80 Cosa Nostra andava a braccetto con la politica sedeva nei salotti buoni di nobili e borghesi siciliani il corneonese cambia i rapporti di forza impone la sua legge anche alla politica e infatti fa uccidere Lima e Ignazio Salvo poi a Reggio Calabria 16 mesi dopo essere stato arrestato se la prende con coloro che reputa responsabili dei suoi guai per lui sono tutti comunisti io e il governo dico che uno vale l'altro un governo vale l'altro i governi sono tutte le stesse c'è solo uno strumento politico del signor Violanti ma però c'è sempre il partito cioè io sono i comunisti che portano avanti queste cose signor Violanti signor Caselle da Palermo c'è tutto una complicola tutto quello che gira attorno a queste cose portano avanti queste cose questo c'è di questo governo se debbano guardare di questi attacchi c'è comunisti ogni volta che si parla dei rapporti tra Cosa Nostra e la politica Rina si ritrae cade dalle nuove avrebbe volentieri ucciso anche Vito Ciancimino che però godeva della protezione dell'altro capo corleonese Bernardo Provenzano come va il suo padre è rimasto vivono Rina non ha deciso di ammazzare a parte che Rina ha chiesto tante volte ovviamente si trovava di fronte un Provenzano che oltre a opporsi cercava di spiegargli il ruolo essenziale di mio padre mio padre era un anello di congiunzione di tante situazioni mio padre discuteva con Rina come poteva discutere con Gradi come poteva discutere con la massoneria con la chiesa con le istituzioni con le istituzioni deviate con la politica con l'imprenditoria è un anello di congiunzione un anello di garanzia di un sistema Rina era anzi si dice c'è un passo che si dice che era diffidente nei confronti di Ciancimino era diffidente come era diffidente di tanti altri uomini politici e di tanti altri potenti come i Cugini Salvo Massimo Ciancimino ha conosciuto personalmente Salvatore Rina quando andava a trovare il padre a casa tra i due non correva buon sangue e Rina ogni volta usciva infuriato dagli incontri con Ciancimino tanto da prendersela con chi lo accompagnava viene lì per un uomo di un metro e ottanta lo sbatte in ascensore e gli dice se la prossima volta io ti dico accompagnami Davito perché poi lo chiamava l'ingegnere quando era di fronte lo chiamava Vito e tu mi ci porti io ti ammazzo con le mie mani anche se te lo chiedo io tu non mi ci devi più portare quindi usciva infuriato un avvese ma era la tattica di mio padre lo conosceva Massimo Ciancimino è uno dei testimoni chiave della presunta trattativa tra lo Stato e la mafia suo padre ne fu il protagonista lui ha prodotto il papello la lista delle richieste fatte da Cosa Nostra allo Stato per fare tacere le armi tra il 92 e il 93 e questo è un dato certo poi Ciancimino Junior è entrato in un groviglio giudiziario che di volta in volta l'ha visto accusatore e accusato come nel caso della calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro ma soprattutto ne sono convinti in tanti avrebbe riciclato i soldi del padre e per occultare questo tesoro avrebbe parlato della trattativa ma la domanda vera è una soltanto questa trattativa tra Riina e uomini delle istituzioni ci fu oppure no? o si trattò soltanto di ragion di Stato? no non ci fu non ci fu non ci fu questo dialogo dello Stato poi il colonnello sappiamo che il colonnello Mori è andato a trattare con Ciancimino Ciancimino non era un latitante quindi non esiste nessun reato nella trattativa tra il il colonnello Mori e Ciancimino bisogna vedere che cosa si sono detti se si sono detti cose illecite o hanno deciso insieme cose illecite allora bisogna dimostrare che però 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 l'opinione pubblica deve sapere cosa che di cui è stato tenuto direi all'oscuro che il reato di trattativa nel codice penale non esiste certo e credo dopo tutto quello che abbiamo detto sia ben chiaro che è così e per fortuna che è così perché se no chiunque qualsiasi investigatore sarebbe paralizzato perché basta che parla con un mafioso e diventa e diventa reo di qualche reato aggiungo che se per caso fosse vero che una trattativa ha impedito un catastrofico attentato allo stadio olimpico dovrebbero forse dargli una medaglia se questo veramente è avvenuto e che non è avvenuto nemmeno questo si dice beh ma se non ci fosse stata quella trattativa probabilmente ci sarebbe stata la strage dell'olimpico allora se abbiamo evitato la strage dell'olimpico abbiamo evitato dei morti quindi lo stato ha fatto bene a trattare con la mafia gliela riassumo in maniera diciamo un po' artigianale io in maniera altrettanto artigianale le inizio a rispondere che lo stato non deve mai trattare con la mafia perché altrimenti la riconoscerebbe come un potere e riconoscere da parte di un di uno stato un potere criminale come proprio contraltare credo che sia criminale passando invece ad una discrezione meno artigianale mi consenta questa battuta le dico che in alcune sentenze anche definitive in particolare quelle delle corti di Assise Fiorentine c'è scritto che al di là delle intenzioni di chi ha contattato Vito Ciancimino di chi ha iniziato questo dialogo a distanza con la mafia quel dialogo ha rafforzato l'intento criminoso e stragista di Cosa Nostra e questa lottica dipinta dalle sentenze definitive degli attentati del 93 e questa lottica che lo stesso Salvatore Rina ce lo dicono altri pentiti appartenuti alla commissione provinciale quindi che si sedevano attorno al tavolo Torriina Brusca Cancemi aveva e adottava quando diceva ci vuole un altro colpetto ci vuole un altro colpetto per indurre lo Stato a ancora più miti consigli non parliamo di trattativa parliamo di rinegoziazione di vecchi accordi che hanno mantenuto degli equilibri si vuole far però focalizzare il tutto la responsabilità sempre su Cosa Nostra e come se Cosa Nostra nel 92 fosse stata l'unica organizzazione criminale che di fatto aveva perso i propri referenti no non è che i propri referenti l'aveva perso solo Cosa Nostra l'aveva perso il sistema Italia Falcone dopo l'omicidio lì mi ha dato la chiave di lettura l'aveva detto qua si è rotto il giocattolo è un messaggio chiaro è stato il grande segnale che purtroppo è stato sottovalutato a tutti la fallita strage dello stadio olimpico doveva essere compiuta il 23 gennaio del 1994 per colpire i carabinieri ma il telecomando fece cilecca e l'auto imbottita di tritolo che era stata piazzata nei pressi dello stadio per fortuna non esplose Riina secondo Ciancimino che riferisce i racconti del padre stava cominciando a dialogare con soggetti nuovi Riina sta cercando di dialogare con qualche altro è là che mio padre percepisce la paura perché capisce bene il limite di Riina e poi dice chi sta riempendosi che se già si è bevuto la minchiata del maxi processo figuriamoci che gli hanno promesso quest'altro che lo fanno senatore a vita che il cazzo gli hanno promesso che questo sta alzando così il t dopo dopo Capaci è preoccupato per cui riceve le donne e da lì inizia quella che è la rinegoziazione gli accordi finisce qui il nostro viaggio attorno all'ultimo padrino di Cosa Nostra finisce qui con una rassicurazione per tutti gli amici degli amici tranquilli lo giuro Tuccio i suoi segreti non li svelerà mai purtroppo io sto isolato da tutti a me mi fanno fare una vita da cane ma anche i cani sono trattati come sono trattati di ingarciare io ho 16 mesi 17 mesi isolato da tutti e da tutto ogni tanto a me si attacca una televisione e poi mi si sta 7 mesi 8 mesi perché mi debbo pendire io non ho niente da pendire inutile che mi trattano così io non ho niente da pendire se avesse cose da pendire non mi pendirei il pendito non l'ho fatto perché non ho niente da pendire che si sa Grazie a tutti.